Manifestazione pacifica, oggi pomeriggio appenne da parte dell'associazione Abbattiamo le barriere Onlus per perorare la causa di 18 ragazzi disabili gravi che dal 20 dicembre scorso sono rimasti a casa, non potendo più usufruire del centro di urna sociale dopo che il nuovo bando, indetto da ECAD, ente d'ambito dell'area vestina, ha assegnato la nuova gestione alla cooperativa SGS di Lanciano che a sua volta ha avviato solo i primi colloqui conoscitivi. Siamo qui semplicemente per manifestare per il disservizio che stiamo ricevendo in questi ultimi mesi in quanto non c'è stata la continuità promessa per il servizio sociale per i disabili maggiorenni gravi e gravissimi. Siamo di nuovo qui a protestare perché la cooperativa è scomparsa e non sappiamo di morte e morire Nel senso i ragazzi sono fermi a casa come dei relitti abbandonati a se stessi. Per quanto riguarda la problematica che si è venuta a creare adesso con i ragazzi che non ancora possono riprendere le attività presso il centro di urno ci siamo attivati con l'ECAD affinché venga prorogata nell'emore dell'affidamento del bando questa attività perché è giusto che i ragazzi abbiano una degna assistenza ed abbiano i servizi di cui hanno bisogno. Per quanto riguarda la parte amministrativa ci rifaremo con l'ECAD per capire bene qual è la questione e come risolverla al meglio. Ci siamo ripromessi con i familiari dei ragazzi che frequentavano il centro di urno di rivederci presso il comune per affrontare insieme la tematica e scegliere insieme la strada migliore per reintegrarli all'interno del centro.